Sono soddisfatto di quello che ho visto perché in un periodo contingente come questo ci sta nel bel mezzo di una serie di partite importanti che ne devono seguire ancora forse più importanti. Ci sta di fare questa partita e acciuffare la vittoria con le unghie, con i denti, con la voglia comunque di vincere la partita nonostante comunque delle difficoltà. Bene così prendiamo cose positive, prendiamo le cose meno positive come quello di subire un altro gol all'inizio dopo che il portiere nostro è stato praticamente inoperoso perché era un spettatore non pagante così come è successo con Storari col Verona, anche oggi Buffon nel primo tempo ha preso la palla dalla porta e ha toccato la via prima volta con le mani il pallone. Nel primo tempo siamo stati sicuramente non molto incisivi, non attaccavamo con tanti uomini dentro l'aria però ci sta, ci sta perché ci deve stare durante un anno, ci deve stare ma è importante che anche in partite come queste come quella contro il Chievo poi alla fine la partita sia riuscita a vincerla. Il Chievo penso che sia una bellissima realtà per il calcio italiano e mi auguro che possa rimanere per tantissimi anni in danzeria. Sappiamo che è una squadra molto difficile, sapevo che avevano preparato e stavano preparando la partita nella giusta maniera con grande organizzazione, con grande intensità, con grande cattiveria, con grande voglia comunque di stupire e comunque il Chievo ha cercato di fare la sua partita. Perché quest'anno fate più fatica a rimanere concentrati per 90 minuti mentre nelle prime due stagioni tu era forse il vostro marchio di fabbrica migliore. E la fame che manca? Secondo me non è una questione di fame, è inevitabile che veniamo da due stagioni consecutive vinte dove abbiamo vinto due Scudetti, due Supercoppa e abbiamo fatto delle cose straordinarie. Tanti giocatori sono cresciuti a livello di rendimento, a livello proprio di qualità individuale. che non è facile comunque riproporsi, stare sul pezzo in maniera cattiva, tutto questo non è facile. Però devo dire che è un percorso noi che stiamo facendo, è un percorso che stiamo facendo, sono delle tappe importanti, sono delle tappe che ci devono aiutare a capire che è difficilissimo questo per rivincere in Italia. Questo sarà molto molto difficile perché gli antagonisti sono forti, hanno grandissimo entusiasmo e noi sembra un po' che l'ambiente si sia un po' abituato alla vittoria. E questo non deve accadere perché ci deve essere sempre grande entusiasmo in quello che si fa nell'aver vinto con le unghie codenti a Chievo e non pensare che la Juventus, perché si chiama Juventus, ha vinto due scampionati consecutivi, ogni domenica vada in campo e debba massacrare gli avversari o debba vincere tutte le partite. Questo non accadrà, io lo so e lo sanno anche i miei calciatori. Grazie a tutti.